Risata in corsia Non particolarmente grave Si entra con un certo timore Se non angoscia Questa è una bellissima domanda Perché effettivamente è sempre una contraddizione Parlare di risata Di umorismo in un posto dove Generalmente invece la situazione è tutt'altro Che piacevole però appunto Questo libro nasce anche con questa finalità Quindi un po' di esorcizzare Il male ma soprattutto infatti Il sottotitolo come presidio terapeutico Perché? Perché ormai Assodato e dimostrato ne parlo proprio In apertura quasi come introduzione In questo libro ma sempre in chiave ironica Niente di impegnativo Ma su basi scientifiche Che dal punto di vista della neurofisiologia È accertato che il ridere il buon umore Fa stare bene insomma Ridete starete sani è un vecchio detto Però ci sono adesso delle basi neurofisiologiche Cioè figurarsi che Sembra che la risata Il ridere il buon umore Attivi dei circuiti neuronali Che sono quelli delle anfetamine Quindi dell'ippocampo La zona più profonda del cervello E non solo Ma già la cosa fa ridere Lo studio fatto in un cinema No? A questi tutti monitorati Allora una persona normale Ha una certa attività E gittata cardiaca Uno che vede Un film Di umorismo Comico Ha un aumento Della gittata cardiaca Del 25% Una persona che vede Un film drammatico Odorrore ha una diminuzione La gittata cardiaca Del 35% Quindi insomma Ripeto Basi fisiologiche Sulla terapia Benefica Dello stare bene Del ridere Anche quindi in sanità Ma perché cosa si ride Negli ospedali Quanto meno In base a quello che lei Ha raccolto E ha avuto Modo di vivere Personalmente Ho cominciato Praticamente Più di 30 anni fa Per situazioni paradossali Non è il libro Degli strafalcioni Della frase detta male Della parola storpiata Ci sono anche quelle Ma soprattutto Delle situazioni Situazioni paradossali Che si verificano Nell'ambito sanitario Secondo me tutti Possiamo fare Questa forma di collezionismo Che ho fatto io Abbiamo presentato Questo libro Alla Lega Navale E ognuno poi interveniva C'erano gli avvocati Che dicevano Anche a me Successa una cosa Di questo genere C'era il notario Che diceva Anch'io una volta Ho sentito parlare Di una casa Con le tette spioventi E quindi insomma Queste cose succedono ovunque Io ho avuto La capacità Di proprio Meticolosamente Di scrivere Nell'agendina Tutto quello che succedeva E alla fine Mi sono trovato Con questa preziosa raccolta Di situazioni particolari Qual è il ricordo Che le ha suscitato Maggiore la verità Cioè la situazione Che le è rimasta Maggiore la verità E che ha voluto Riportare Tra le tante altre Nel libro Ma forse Allora Il primo Diciamo Chi sono i protagonisti Di queste situazioni comiche Io ho messo Prima di tutto Noi medici Poi il personale sanitario In generale I pazienti Figurarsi I parenti I parenti dei pazienti Ma io addirittura Invito a cogliere Queste situazioni Anche che sono Nella vita quotidiana Ascoltando la radio Infatti c'è anche il giornalista Una volta un giornalista Ha detto Totorina Comunicava Mediante Pizzini scritti In dialetto Fenicio Cioè Ti immagini Ma lei non deve ora Scansare Andare verso altre professioni Rimaniamo in ambito sanitario Ho detto Il primo sono stato io Un giorno ero Da un direttore amministrativo Per chiedere una cosa Per l'ospedale Penombra Di sera Quasi Nella sua stanza C'era anche Qualcuno che gli apparteneva Di famiglia Perché sta facendo i compiti Vedo questo ragazzotto Di spalle Che sta facendo i compiti E allora per fare così Tutto il piacione Gli faccio Questo bel ragazzo Chi è? Risponde lui Mia figlia Mi ha detto Cioè Nel momento Voleva sprofondare Volevo sprofondare Poi ci sono Gli infermieri spiritosi Cioè il paziente Che gli chiede Ma lo zucchero quant'è Per la glicemia E lui ha 2,50 euro al chilo Questo così Ma dico situazioni Veramente simpatiche Una volta Io ero per una consulenza Al pronto soccorso E assieme a me C'era un mio collega Che sta facendo Una consulenza E c'era una signora Che aveva Era lì per vomito ripetuto Allora Questo mio collega Gli face Signore Quindi Non lo so Da quando è che ha Questo senso di vomito E quella Tutto il giorno Ci vede per esempio Dottore Anche in questo momento Guarda lei E mi viene da vomitare E indubbio Che ridere Fa bene E fa bene all'umore E soprattutto E anche Evidentemente Come dimostrato Agli studi scientifici Anche al corpo E però Le chiedo Non è anche Un po' Vero Che l'ambiente Ospedaliero Al di là Della serietà Professionale Che medici e operatori Devono dimostrare È un po' Troppo Distaccato Rispetto Rispetto a quella Che è l'esigenza Anche Di umanità Da parte del paziente Di essere confortato Al di là Delle cure Anche questo Infatti È un invito Anche ai miei colleghi Al personale sanitario Perché questa è una cosa Molto interessante Parliamo seriamente L'approccio col paziente Deve essere È proprio quello Di metterlo a suo agio E il paziente È una persona Che vive un momento Forte di disagio Di tensione Quindi stiamo parlando Qua di situazioni drammatiche Quindi se io Non cerco un po' Di smorzare Anche con la battuta Di buon umore Mettendolo a suo agio Cioè Noi lo vediamo subito Anche nei piccoli interventi Di chirurgia In chirurgia ambulatoriale Il paziente è lì È quasi sveglio Si fa una anestesia locale Però a volte Lo stato di tensione Lo porta Dico spesso Che sono quelli Che perdono coscienza Svengono Proprio per il timore Per lo stress E per lo stato d'ansia Quindi l'approccio del medico A tranquillizzarlo A metterlo a suo agio A cercare di fare chiarezza Perché adesso c'è il discorso Il consenso informato Quindi il paziente Deve sapere bene Qual è la sua situazione clinica Quali sono i rischi Legati a quel trattamento Terapeutico Ma c'è modo e modo Di farlo Quindi ripeto Questa umanizzazione Nei confronti del paziente È importantissima Quindi sono perfettamente D'accordo E anche lì Credo che In questo libro Si parli pure di questo Si traspare Questo voler A tutti i costi Cercare questo bisogno Da parte del paziente È secondo me Quasi dell'obbligo Da parte del medico Di cercare Di smussare Il gioco delle parti E quindi di venire Un po' incontro Al paziente Cercando di fargli capire Insomma Quello che sta facendo Che sta facendo per lui Che sì Possono esserci rischi Però bisogna sempre Essere ottimisti Che magari sicuramente La cosa La situazione Andrà quasi sicuramente bene Torniamo ad alleggerire La discussione Fare il medico Ai tempi di internet Che non arrivano i pazienti Che già hanno Diagnosi E cura pronte Quindi diciamo Che il vostro lavoro È quasi Ormai messo in secondo piano Ad avviso di molti E non è così Chiaramente Le sarà capitato Anche qualche situazione Divertente In questo contesto Sì Un giorno È arrivato Un signore Un distinto signore Distintissimo Per una visita Urologica Un po' particolare Lo invito A spogliarsi Dovevo visitarlo Questo comincia A spogliarsi Un certo punto Si ferma E fa Cioè scusi dottore Lo spengo il cellulare Per evitare interferenze Mi sono chiesto Quali interferenze Volesse evitare Comunque insomma Abbiamo spento il cellulare Effettivamente sì I pazienti adesso Si informano Sulla loro condizione Condizione clinica E sulle complicanze Sui rischi eccetera Il problema qual è? Che loro Il paziente Generalmente Un po' Quasi sempre Un po' ipocondriega Quindi Nel vedere insomma La patologia Che sta affrontando Leggendola su internet Quasi sempre Si concentra Sulle complicanze E sugli aspetti Più negativi Che so Uno su centomila casi Ci può essere questa cosa Non si rende conto Che sugli altri 999 mila Invece Non può succedere niente Quindi Ecco In questo senso Anche lì cerchiamo Di fare chiarezza Dicendo sì Fate bene Informarvi Eccetera Però Guardate che Se vi leggete bene La casistica Delle complicanze O dei rischi Connessi a questa cosa Poi alla fine Insomma Il rischio È veramente molto basso È importante È importante far ridere Il paziente in generale Ma ancora di più I piccoli pazienti Noi tra l'altro Abbiamo l'esperienza Di questi ospedali Nei quali Nelle corsie È come no Sì L'umoterapia è importantissima Sono in questi centri Ormai Di oncologia Pediatrica Dove la presenza Del medico clown Fra virgolette È ormai Istituzionalizzata Appunto Anche questo Conferma il fatto Che Tutto questo serve Insomma A cercare di fare vivere Il piccolo paziente Questi momenti Tristi Drammatici Qui stiamo parlando Di bambini Sottoposti a terapia Molto pesanti Il meno Incisivo possibile E quindi Proprio questo dimostra Che questa Humorterapia Alla fine È veramente Un presidio terapeutico Come dico qui Come nel sottotitolo Del libro Chiudiamo La discussione Su questo libro Intanto Se lei dovesse Invitare Ecco Il telespettatore Che ci sta seguendo A leggerlo Perché Che cosa può trovare Al di là Della Abbattuta spiritosa E lei perché Ha sentito Di doverlo scrivere Siamo in un momento Dove le nostre giornate Sono veramente pesanti Stressanti Io ho voluto Tra l'altro L'ha pubblicato Il gruppo editoriale Albatross Che è una grossa Casa editrice No E mi hanno fatto Le domande Dicendo come mai Ho avuto questo libro Insomma Però l'hanno pubblicato E ho voluto Che si pubblicasse Che uscisse Poco prima dell'estate Infatti è uscito In tutte le edicole Anche qui a Sciacca Si può trovare E poco prima dell'estate Proprio perché È un libro Che secondo me Si può leggere la sera A fine giornata Per rilassarsi Per alleggerire Il tensione Della giornata E poi alla fine Come dico io E come dice Stefano Malatesta Che mi ha fatto La prefazione Nel libro Se poi siamo riusciti Veramente A fare sorridere Anche leggendo due o tre pagine Abbiamo colto Il nostro obiettivo Che era proprio quello Di somministrare Una terapia del buon umore Che ha grossi grossi effetti Anche sulla omeostasi Del nostro corpo Quindi ecco Il motivo è quello E soprattutto consiglio di leggerlo La sera magari poco Prima di andare a letto Come medicinale Come pressione Terapeuta Di sanità stiamo parlando Pur sempre Quindi visto che Parliamo di sanità Le chiedo Ieri la notizia Dell'acquisto di nuove apparecchiature Per l'ospedale di Ribera In particolare Per la divisione di radiologia Ci sono state però Le difficoltà Durante l'estate Legate proprio Al reparto di chirurgia Dove lei opera Qual è la situazione E qual è L'auspicio per questo ospedale Noi abbiamo Una piccola unità di chirurgia Nel senso Perché siamo soltanto Tre medici In questo senso Quindi dovendo Dovendo garantire Due reperibili al giorno Noi siamo quasi sempre reperibili Siamo in tre Io, il dottore Petrone E il dottore Falcone Quindi al momento in cui C'è stata C'è stato questo Decisione del dottore Falcone Di andare in pensione Si è creato un momento di crisi Perché non è facile Subito reperire Specialisti in chirurgia E quindi insomma Si è dovuto Per un po' di tempo Dimezzare l'attività Facendo i ricoveri H12 Ma nel momento in cui Il dottore Falcone Ha deciso di rientrare Quindi rinunciare al pensionamento Tutto è ritornato nella norma Quindi però stiamo lavorando A pieno ritmo E da noi c'è una chirurgia Che funziona ormai Con dei numeri Credo insomma Siano lì visibili Abbastanza significativi Facciamo tantissima chirurgia ambulatoriale C'è Spero che venga considerato Un ottimo servizio Di endoscopia digestiva Che dirigo io E facciamo un'attività di screening Molto importante In collaborazione con gli altri centri Ricordo che siamo Chirurgia riunita A Sciacca-Ribera Quindi con un unico responsabile E quindi le cose vanno bene Voglio anche dire Che non soltanto Si stanno comprando Apparecchiature Per la radiologia Molto importanti Ci sarà A quanto pare La risonanza magnetica Ci sarà il mammografo Ci saranno altri Altri presidi Diagnostici Ma probabilmente Forse non so se è il caso Di anticipare Anche noi in chirurgia Avremo pure qualcosa Pure di innovativo Quindi però Su questo ancora Non è definitiva la cosa Nel senso quindi Che noi ci stiamo impegnando Ad offrire anche Qualcosa in più Per quest'utenza Che ripeto A Ribera Non è l'utenza di Ribera Ma è di circa 12 comuni Che ruotano attorno a Ribera Quindi anche il nostro distretto È uno dei più numerosi Quindi insomma C'è una richiesta di sanità Che noi cerchiamo Anche facendo sacrifici Con quelli che abbiamo fatto Quest'estate Perché sono stati sacrifici Molto molto duri Da parte Del sottoscritto E dei miei colleghi Anche la decisione È stata sofferta Da dottore Falcone Di rinunciare alla pensione Insomma penso che poi Alla fine Spero che questo Venga percepito Appunto come un senso Di servizio Che abbiamo noi Nei confronti Dell'utenza Come avete eseguito In questi anni Le critiche Le contestazioni Rispetto al fatto Che diversi reparti Erano doppioni Rispetto All'ospedale Di Sciacca Questa contrapposizione Continua Anche se In realtà Si dovrebbe lavorare Per potenziare Diversificando L'offerta sanitaria Ma potenziare Le due strutture No no Ma noi non abbiamo Insomma Non c'è stato intanto Mai conflitto Fra la chirurgia di Ribella Ma assolutamente La chirurgia di Sciacca I casi più complessi Anche perché Qui a Sciacca C'è la rianimazione C'è la cardiologia Sono stati inviati A Sciacca I casi Quelli rutinari E soprattutto Dei ospiti Li abbiamo fatti Noi a Ribera I numeri Poi alla fine Un esempio Di come si è riusciti A diversificare Nell'ambito proprio Della chirurgia Sì moltissimi di H Si fanno Tantissime persone di Sciacca Lo possiamo dire Perché i vostri I vostri Ascoltatori Sono spesso Nostri utenti Vengono a Ribera E soprattutto In chirurgia ambulatoriale Per controllare Dall'endoscopia Abbiamo numeri Considerate che sono Solo io Affare endoscopi Ovviamente Considerevoli E ripeto Tutto questo È uno spirito Sempre c'è stato Di collaborazione Fra noi La chirurgia di Ribera Quindi non credo Poi doppioni In senso di spreco Assolutamente no Perché le liste d'attesa Poi dimostrano La richiesta di sanità Che c'è E noi abbiamo Le liste d'attesa Veramente importanti Che cerchiamo Tra l'altro Sempre di Di diminuire Di cercare Di ridurre al massimo Ma che dimostrano La richiesta di sanità C'è Quindi non siamo Assolutamente I chirurghi Che stanno fermi A aspettare Che gli arrivi il paziente Tutto altro Studiamo questo spazio Dedicato appunto Al libro Risate in Corsia E un presidio Terapeutico Con un altro Momento Così divertente Che è successo Che è successo Personale Dunque Io ho fatto un capito Ho dedicato un capito Alla sicilianità La sicilianità in sanità È qualcosa di straordinario E riporto Mi devi consentire Due battute Perché sono simpaticissime Si ricovera un paziente Per una occlusione intestinale Sicilianità Allora Gli chiedo Gli faccio l'anamnesi Appena si ricovera Dico È stato mai operato E lui Non l'ho mai operato Prima d'ora Ok Occlusione Vediamo la pancia Scopri la pancia È piena di cicatrici Tutte queste cicatrici Lui si guarda la pancia Ah questo Niente Ci siamo sparati Una volta con uno E poi è bellissima A Palermo In periodo molto caldo Ripeto Io lavoro Dall'84 Quindi Palermo 84 Anni 80 Erano molto caldi Ho saputo Mi sembrava Leggenda metropolitana Che un primario Stava nella sua stanza Dentro il cassetto Avesse una pistola Non si sa mai Quello che può succedere Magari un intervento va male Qualcuno mi aggredisce Mi sembrava Leggenda metropolitana E ho chiamato Una volta parlavo Con il caposala Di quel reparto E gli faccio E mi ha detto Che il professore Contiene nel cassetto Una pistola Risposta Pistola Una 635 Che cosa c'era di altro Ma aspettavate Insomma Quindi Anche questo aspetto È bellissimo Molto molto interessante Grazie Grazie al dottore Macaluso In bocca al lupo Complimenti Per questa nuova Iniziativa Grazie 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 a tutti.